Wewe ragazzi e bentornati, oggi parleremo di Ramirez squadra speciale Triceratopo Ebbene si, il suo nome è proprio questo, Ramirez squadra speciale Triceratopo Si presenta con le abilità onda ad urto, granata frammentazione e allo sbaraglio E i suoi vantaggi sono rispettivamente quello standard rigenera 2,125% della tua salute massima ogni 5 secondi Mentre quello comandante rigenera il 6,375% della tua salute massima ogni 5 secondi Quindi sono il 2% come standard e il 6% come comandante Innanzitutto un grazie subito alla Epic per il colore che ha assunto la lobby E pensavate che dicevo per il ritorno di fiamma che è attivabile anche tramite questo eroe Regia per favore mi cambiate sto colore accecante Si ho capito ma dovevate farlo prima, ora dobbiamo far partire il gameplay Comunque il ritorno di fiamma è attivabile anche tramite questo eroe Ma vediamolo un attimo nel dettaglio Ok, basicamente più vita avete più vita andrete a recuperare In quanto comunque il vantaggio si basa su una percentuale Abbinato poi comunque anche al survivalista nella build Riuscirete comunque a tankare in una maniera veramente impressionante Non mi era mai successo di riuscire a tankare così tranquillamente Con un'arma che non facesse parte di un set Con una build non studiata apposta Insomma semplicemente questo eroe come comandante Survivalista nella build e una sola perk di corazza Però attenzione perché in questo video andremo a vedere questo eroe bene nel dettaglio Ci sono un po' di argomenti su cui discutere E cercherò comunque di darvi una visione ben chiara di quello che è l'eroe E di quello che può essere l'eroe anche in varie build Allora innanzitutto la vita verrà recuperata in base a un tot di tempo trascorso 5 secondi in questo caso 5 secondi sono veramente tantissimi Quindi senza una vera perk di survivalista Semplicemente con l'eroe così Non è possibile comunque cercare di sopravvivere il quanto più possibile in missioni affollate Però in quei 5 secondi comunque la quantità di vita che andrete a riprendere È abbastanza notevole per permettervi di sopravvivere abbastanza a lungo La dimostrazione più chiara della sua verabilità la otteniamo osservando la sua vita fuori dalla tempesta Ricordatevi poi che comunque ci sono molte variabili da aggiungere anche fuori dalla tempesta Perché ovviamente se andate a mettere perk di corazza E vi ricordo che ne esistono due Ed esistono anche armi su cui è possibile mettere fino a 3 perk di corazza Quali il barone Beh in pratica più perk di corazza avete Meno la tempesta vi fa danno E quindi non aumenta la percentuale di vita ricevuta Però diminuisce il danno quindi di conseguenza recupererete più vita Magari vi sembrerà di sopravvivere più a lungo o meno a lungo Quindi tenete bene a mente questo Ovviamente è molto differente dall'abilità del survivalista In quanto comunque questa è un'abilità passiva La vita vi si rigenererà indifferentemente se killate zombie o meno E anzi se avete il survivalista Oppure a maggior ragione anche arlenizza nella build Ma in questo caso comunque vado ad utilizzare armi a distanza Beh in pratica vi si sommerà comunque la cura di tutti e due Ecco comunque essendo un'abilità passiva è molto meno affidabile del survivalista Se comunque sono molto differenti e se comunque hanno utilizzi molto differenti In caso comunque magari di missioni strutturate bene e con taker occasionali E magari la possibilità di riprendere la vita così stando su due piedi è molto favorevole Ma in casi comunque di alta densità di zombie e comunque di un fight abbastanza intenso Forse è molto meglio survivalista Che poi in sé come comandante la quantità di vita che va a riprendere è abbastanza promettente E adesso infatti andremo a vedere come si comporta questo eroe nelle varie build Vedremo se ne vale la pena metterla, se vale la pena sostituirla a qualche perk che già abbiamo oppure no Innanzitutto abbiamo detto che la quantità di vita ripresa con questo eroe è identica Ciò significa che comunque si basa sul percentuale Quindi con il ritorno di fiamma o senza il ritorno di fiamma è semplicemente identico Anzi vi dirò di più con il ritorno di fiamma proporzionalmente la quantità di vita che riprenderete è maggiore in questo caso Vediamo un po' in questo caso utilizzando Sara anticoccole vado a rigenerare il mio shield Quindi quella volta che mi tirano giù la vita beh può essere utile riprenderla diciamo non istantaneamente Perché appunto devono trascorrere comunque 5 secondi tra una cura e l'altra Mi cura molto meno rispetto al ritorno di fiamma Cioè percentualmente è la stessa cifra ma in quantità di fatto la quantità di vita è inferiore ovviamente Su un milione e mezzo la percentuale è sicuramente maggiore rispetto comunque a 500.000 di vita no? E anche qui in questo caso la boccio perché dovrei preferire mettere questo eroe nella build Quando vado comunque ad utilizzare Sara anticoccole E potrei comunque contare su Arlenizza che ipoteticamente mi cura molto più alla svelta Oppure appunto anche il survivalista semplice Insomma è vero che la vita non mi serve ma se posso decidere se recuperarla più in fretta o meno Decido ovviamente di recuperarla più in fretta Poi ragazzi ho provato con Luna Paleo ma ovviamente sapevo già anche qui la risposta Vi rendo partecipi di quella che è stata la mia conclusione Anche qui se andassi a mettere Arlenizza recupererei sicuramente maggior vita Certo finché giochiamo con un team probabilmente tutto quel boost con la vita di Arlenizza non ci serve Ma nel momento in cui magari siete in due o addirittura in solo ad affrontare missioni di intensità estrema Beh Arlenizza fa veramente la differenza in questo caso Poi ovviamente è un esempio anche sbagliato da parte mia farvi vedere ciò Perché comunque non è il modo per cui è stato studiato questo eroe Quindi dato comunque il periodo in cui è uscito questo eroe Secondo me andrebbe provato anche nella mettita in marcia E qui secondo me viene veramente visto il suo potenziale In quanto comunque il danno è veramente stabile Continuiamo a recuperare la vita Eeeh ni diciamo che possiamo alternare la cura che ci dà diciamo l'eroe nella build Con la botta di adrenalina per mantenere lo stesso livello di vita Andremo comunque un pelo in negativo E considerate che comunque in questa build ho solo una perk di corazza ovvero Iza E anche qui ci sono comunque un po' di ma e un po' di ma belli grossi più che altro Certo mi fa sempre piacere recuperare la vita quando posso e comunque mantenerla un pelo stabile Ma a maggior ragione che devo fare il farmatore per questa missione perché comunque è richiesto Quindi è magari richiesto che io stia fuori safe il più possibile senza morire perché è importantissimo comunque non sprecar tempo Beh volevo dire perché dovrei preferire comunque questa abilità quando posso contare sui cocchi A maggior ragione che farmo posso comunque scegliere di mettere nella build i cocchi Che oltre che farmi recuperare molta più vita comunque posso dropparli posso dargli ai miei compagni Posso rendermi utile anche sotto quell'aspetto Piuttosto che comunque magari craftare un falò o fare una pedana curativa no? In quel caso possiamo risparmiare con i cocchi pur droppandoli pur comunque cercandoli Quindi anche in questo caso viene un po' surglassata secondo me È brutto da dire perché comunque è un eroe nuovo Certo è molto utile comunque combinare certe build e mettere il più survivalista Ma come abbiamo visto ci sono comunque perk molto più affidabili su cui possiamo contare E in conclusione ragazzi vi consiglio comunque di prendere sempre tutti gli eroi E adesso vi spiego anche il perché Nonostante abbiamo visto che ci sono valide alternative per comunque sostituire in qualsiasi ambito questa perk Non è da tralasciare il fatto che comunque la Epic noti questa cosa Perché comunque si sa non è che lo nota subito Diciamo che i vari test che dovrebbero fare secondo me vengono un po' balzati Quindi è molto probabile che la sua perk non tanto quella comandante ma più quella che dà come vantaggio Diciamo che secondo me potrebbe subire un boost Potrebbe cambiare leggermente insomma non lo so Molte cose cambiano su salva al mondo giorno per giorno no? Ce ne siamo accorti Quindi come sempre è importantissimo prendere questo eroe Oltre ai cambiamenti poi è possibile che magari riesca una modalità che ne so Fuori dalla tempesta per sempre Magari dove è richiesto stare sempre fuori dalla tempesta Ma maggior ragione di mettiti in marcia Insomma ci sono comunque mille motivi per cui dovreste sempre prendere tutti gli eroi E a maggior ragione questo E poi non si sa mai Un leggero boost in più alla vostra build preferita per stare in sopravvivenza Potrebbe essere sicuramente un'ottima scelta Io ragazzi vi ringrazio di aver guardato il video Ci tengo molto comunque a sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti Quanti di voi comunque si trovano bene con quest'eroe Quali build avete fatto Con quali build vi trovate bene Fatecelo sapere anche a noi nei commenti Io ragazzi vi saluto Noi comunque ci vediamo con il prossimo episodio Bella bella Se invece ti stai chiedendo cosa succede se inserisci il vantaggio squadra di sfavorito con quest'eroe Assolutamente niente Da quanto ho potuto notare Purtroppo il vantaggio squadra di sfavorito non si somma alla perk di quest'eroe Grazie a tutti Grazie a tutti